Io già non sto andando più a lavorare perché io faccio l'informatore medico scientifico, quindi vado in giro e per ora lavoro per telefono. I medici mi dicono di andare a trovare e non ci posso andare, è proibitivo. Il fatturato così cala, però dobbiamo abbattere le spese. In qualsiasi famiglia, di qualsiasi tipo sociale, sicuramente sono delle spese in più, che non erano previste. Tutti gli aumenti creano problemi, al di là del tipo di persona, di famiglia, se li hai o non li hai, tutti questi aumenti sicuramente sconvolgono e danno molto fastidio. Vedo che con 20 euro vengono 8 litri, 8,85, quindi il pieno costerà 100 euro, non l'80 euro, facendo le dovute proporzioni. È una follia, nella macchina ho fatto, in genere facevo il pieno con 50 euro, ora ho fatto 60 euro, tre quarti di tanga. Io lavoro con i mezzi perché è una ditta mia, per cui purtroppo ha necessità di muoversi, ha necessità di mettere bensì. Comporta che è veramente faticoso tirare avanti, dovendo uscire sempre con la macchina. Tutti i giorni ha il suo costo, ha la sua, come dire, incide molto di più rispetto a prima, nel budget familiare. Se dovesse continuare così cosa? Speriamo che cambi, se dovesse continuare così, limiteremo le uscite con l'autovettura al minimo indispensabile, non c'è altro da fare. Se continui in questo momento saremo veramente rovinati, la maggior parte della popolazione non sta bene, per cui credo la gente è mediocre oppure avrà delle grossissime difficoltà. Speriamo che tutto questo possa finire in breve tempo. Il problema sono proprio le accise, assolutamente, e poi questo rincaro che c'è stato adesso con questa guerra. Guerre accise alla fine la paghiamo sempre noi.